Per diventare una località di destinazione turistica ci vogliono tante cose. La prima cosa è la promozione. La sala del comune di Terre Roveresche ha fatto da sfondo alla presentazione dell'itinerario della bellezza e l'itinerario del silenzio e della fede, con particolare attenzione proprio al santuario di San Pasquale Bailon. L'appuntamento ha visto la presenza di numerosi amministratori comunali, a simbolo dell'importanza dell'iniziativa di promozione del territorio. Lungo l'itinerario della bellezza abbiamo delle realtà dal punto di vista della fede cristiana, molto ma molto importanti. Eremi straordinari, ma chiese e abbazie, che sono dei luoghi, oltre che di fede, sono dei grandi scrigni d'arte. Per cui, visto che il turismo religioso è in forte espansione, abbiamo deciso, con le amministrazioni che partecipano al progetto itinerario della bellezza, di creare anche questo itinerario. Ricordiamo che nel nostro territorio sono nate le tre grandi congregazioni religiose, dei francescani, dei cappuccini e dei camaldolesi. Qui a Terre Roveresche abbiamo un concentrato di chiese e abbazie molto importanti. Questa volta, per la prima edizione dell'itinerario del silenzio della fede, abbiamo inserito il santuario di San Pasquale Bailon, qui di San Giorgio. Ma, dato che faremo un'altra edizione il prossimo anno, ci sono delle realtà straordinarie a Barchi, a Orciano, ed è una delle novità del 2022 del progetto itinerario della bellezza, che però non si conclude con l'itinerario del silenzio della fede. Poi usciremo nei mesi di novembre con un'altra novità, che è l'itinerario musicale nell'itinerario della bellezza. In ogni realtà comunale andiamo a far conoscere quelle realtà legate alla musica, che caratterizzano anche la vita sociale di queste comunità. E quindi penso a bande, penso ai cori, o penso ai festival che si tengono, che ne so, a Urbino, a Fano, a Fano Jazz. Mi piace anche ricordare a Fano questa collezione di batterie prestigiose. E quindi l'itinerario musicale uscirà nel mese di novembre, ma stiamo già lavorando per la nuova edizione dell'itinerario della bellezza, che uscirà e presenteremo alla Bitta Milano, e sarà per il momento di 18 comuni, cioè i 16 di quest'anno, più i due che si sono inseriti ultimamente, cioè Piobbico e Isola del Piano. Altra novità è che alla Bitta di Milano presenteremo anche il primo itinerario di mototurismo regionale. Abbiamo commissionato a due splendide ragazze in sella, a due Yamaha, 15 itinerari, tre per ogni provincia marchigiana, e in questi itinerari raccontano i percorsi, cosa c'è da vedere, dove si può fermare per degustare i prodotti tipici. Però, visto che siamo a Terre Roveresche, oggi annunciamo anche che il 15 di novembre organizzeremo un educational con gli operatori turistici della costa e li portiamo tutta la giornata a Terre Roveresche. Quindi vogliamo far conoscere agli operatori della costa il nostro entroterra, che fa parte ovviamente dell'itinerario della bellezza, perché spesso e volentieri non conoscono le bellezze del nostro territorio. Quindi è un impegno che ci siamo assunti con le amministrazioni comunali e lo stiamo portando avanti. Il 15 di novembre saremo qui a Terre Roveresche.